il sorriso è una delle cose più belle preziose di noi esseri umani dovremo imparare decisamente a coltivarlo di più e a usarlo sempre di più sempre più spesso durante i nostri rapporti quotidiani invece mi capita di entrare in contatto con donne ma anche con dei maschietti che mi scrivono di aver perso completamente la voglia di sorridere i motivi sono molteplici ma quello che ritornano più spesso è legato ad una mancanza di autostima all'incapacità di reagire agli avvenimenti negativi della vita purtroppo non ho ricette magiche non posso offrirle a te che mi sta ascoltando e neppure a quelle amiche amici che mi hanno scritto che continuano a scrivermi ogni giorno però un consiglio posso darlo smetti di girarti indietro e guardare al passato oscar wilde il grande scrittore orlandese amava ripetere l'unica cosa bella del passato e che è passato aggiungo io se ne è andato il passato è passato amica mia amico mio sforzati di focalizzati sul presente oggi conta cerca di affrontare i problemi 11 senza nascondertici dietro tornare a sorridere non è semplice ma io so che è possibile molti anni fa ho scritto un libro molto particolare chiamato donne in crisi che ho pubblicato se non erro nel lontano 2009 con la bruno editore di roma che ringrazierò sempre per fiducia che l'epoca mi concesse in tempi non sospetti racconto parecchie storie di donne che sono riuscite a risolvere i propri problemi tornare a sorridere legge lo è un vero e proprio trattato di coaching aiutato molte donne e anche dei maschietti forse può aiutare anche te a tornare a sorridere e magari a riprenderti in mano la tua vita io sono giocano fornei un coach un mental coach quelli che tutti chiamano in rete il coach delle donne per la sua grande esperienza di lavoro con l'universo femminile sono oltre 16 anni che lavoro e aiuto le donne vi devi trovare sul mio blog principale coaching perdone puntocom e se ti va leggi qualcuno dei miei libri donna in crisi te l'ho accennato prima ma c'è anche l'ultimo autostima zero un vero e proprio concentrato di autostima con ben 33 consigli pratici e piene di buon senso almeno spero e ricorda un buon modo per tornare a sorridere quello di buttarsi alle spalle il passato e focalizzarsi solo e unicamente sul presente è il presente che conta conta oggi quello che stai facendo e conta approcciare la vita con un bel sorriso perché il sorriso è straordinario e ci sono tantissime ricerche scientifiche che affermano e dimostrano che chi sorride vive decisamente meglio un abbraccio al prossimo podcast